una brutta partita approcciata anche nel giusto modo all'inizio ma che non abbiamo chiuso che dovevamo gestire meglio già nei primi due quarti e invece abbiamo permesso ai nostri avversari che comunque hanno provato a rimanere attaccati di rimanere dentro la partita e poi un terzo e quarto quarto oggettivamente da dimenticare incapaci di disegnare anche sui vantaggi che loro volutamente ci hanno lasciato sfidandoci al tiro e senza riuscire a trovare chiavi diverse per poter attaccare e arrivare al ferro certamente merito loro e questo è indubbio ma penso una grandissima parte di merito nostro. Ultime due partite della regular season della prima fase contro due squadre fortissime prima Costone per Quarrata come si affronta? Beh sono due partite per roster e sulla carta per noi molto proibitive Costone è tornato con l'assetto che doveva avere sin dall'inizio e quindi una squadra profonda esperta di giocatori di qualità di talento di taglia fisica lo stesso si può dire per Quarrata due squadre che sulla carta sono le due squadre più forti di questo girone le dovremmo affrontare con grande reazione soprattutto quella più vicina quella di domani le dovremmo affrontare con cattiveria rispetto a quello che non abbiamo fatto e questo è l'aspetto mentale di salto più importante dovremmo fare dopo la brutta prestazione di mercoledì. Un passo per volta prima il derby con il Costone. Senza dubbio ripeto due partite complicate ma da affrontare singolarmente senza star troppo a pensare a quello che succede intorno a noi o che sarà la prossima settimana una partita difficile ci dovrà vedere impegnati molto sia dal punto di vista fisico tecnico e tattico per far fronte ad un avversario che rispetto alla partita di andata e certamente di maggiore qualità.